Benvenuti nel mondo Corum. Corum è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 1955 alla Schodefons, in Svizzera. L'azienda è stata fondata da Gaston Ries e si è distinta nel tempo per la sua innovazione e creatività nell'ambito dell'orologeria di alta gamma. Corum ha saputo mantenere nel tempo una forte attenzione all'artigianato e alla maestria, realizzando orologi di altissima qualità e prestigio. Il marchio Corum ha introdotto diversi modelli iconici nel corso degli anni, come il famoso orologio Bubble. Questo modello è caratterizzato da un grande vetro zaffiro bombato che ne amplifica l'effetto tridimensionale. Grazie a questa particolare caratteristica, il Bubble è diventato un vero e proprio oggetto cult tra gli appassionati di orologeria. Altri modelli celebri di Corum includono il Golden Bridge, un orologio caratterizzato da un movimento meccanico lineare visibile attraverso un vetro zaffiro, e il Admiral's Cup, ispirato alle regate veliche e caratterizzato dalla forma ottagonale della sua cassa. Il Golden Bridge è stato lanciato sul mercato nel 1980 ed è diventato subito un grande successo per la sua eleganza e innovazione tecnologica. Corum ha anche collaborato con diversi artisti e designer nel corso degli anni, creando orologi unici e innovativi che uniscono arte e tecnologia. Ad esempio, nel 2019 il marchio ha presentato l'orologio Lab02, disegnato dal designer svizzero Vincent Calabrese. Questo orologio è caratterizzato da un movimento meccanico innovativo e altamente tecnologico, che utilizza un sistema di rotazione degli ingranaggi che consente di ottenere una maggiore precisione nell'indicazione dell'ora. In sintesi, Corum è un marchio di orologi svizzero di lusso noto per la sua innovazione, creatività e maestria artigianale. Grazie ai suoi modelli iconici e alle collaborazioni con artisti e designer, il marchio ha continuato ad essere apprezzato dagli appassionati di orologeria in tutto il mondo. Se sei alla ricerca di un orologio di alta qualità, Corum è sicuramente un marchio da tenere in considerazione. Grazie a tutti.